E' finito in manetta arrestato dai carabinieri un nigeriano di 26 anni accusato di sequestro di persona, violenza sessuale, rapina. La vittima sarebbe una 22enne della Repubblica Ceca. I due si sarebbero conosciuti in internet a lanciare l'allarme la stessa donna con alcuni messaggi d'aiuto mandati a un amico francese che ha poi chiamato i carabinieri. Raccontava di essere trattenuta contro la sua volontà in un appartamento di Tribano ed è lì che si sono precipitati i militari della compagnia di Abano Terme. A loro arrivo in una stanza trovano la donna straniera visibilmente scossa che viene subito accompagnata in caserma mentre il presunto sequestratore nigeriano viene fermato. La ragazza ha raccontato di aver conosciuto tramite un servizio di messaggistica online l'uomo con il quale aveva iniziato a scriversi in chat. Dopo qualche tempo era stata invitata a Padova per iniziare una relazione. La ragazza consentiva finendo però nei guai. Lo straniero infatti le avrebbe usato violenza, l'avrebbe minacciata impedendole di uscire di casa e in un'occasione dopo alcuni giorni si sarebbe anche impossessato dei soldi della ragazza a circa 2000 euro colpendola con pugni e schiaffi. Fino a quando approfittando di un momento di distrazione del suo aguzzino la donna riusciva col suo telefono cellulare a inviare la richiesta d'aiuto accompagnata in ospedale a schiavonia per accertamenti il nigeriano invece è finito al carcere due palazzi.